un saluto a tutti gli amici di plan e spin sono oscar bignotti plus fishing pro team in questo breve filmato vorrei mostrarvi in cosa consiste una montatura sasuteki il cui utilizzo l'avete potuto leggere nell'articolo sopra correlato per l'inesco sasuteki avremo bisogno di una model 4050 il classico piombo della zappo un'esca di gomma in questo caso il nostro sasuteki grau di jackal e inserendo il piombo nella coda del gambero che andremo a montare come un normale texas rig anti alga al contrario per poi con la punta del lamo andare a prendere la spinetta del piombo che è già all'interno dell'esca in questo caso rimarrà bella ferma solida e permetterà la nostra azione sasuteki niente di difficile vi ricordo solo i piombi di zappo appositi per l'inesco sasuteki e le esche come il cover crow e il sasuteki crow di jackal rinnovo i miei saluti e tutti gli amici di plane spin da oscar ciao a tutti